Oh, mi sento molto meglio ora che sono stati salvati così tanti draghi! Forza, salta su e ti mostrerò il mondo dei tessi sogni! Sei pronto a partire? Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ben fatto, Spyro! Spero che tu sappia cosa ti aspetta! Il mondo dei nesti non è il posto più gradevole che visiterai! Sei pronto a partire? Grazie a tutti! Benvenuto nel mondo dei tessi sogni, giovanotto! Mentre dai la caccia agli scagnozzi di nesti, qui dovrai aspettarti l'inaspettato e prepararti a quello che non c'è! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ciao, Spyro! Ciao, Spyro! Gran bel lavoro! Lo sarà quando avrò arrostito quel nesting orc! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! I babbei che incontrerai in questo mondo sono invincibili, ma questo non vuol dire che tu non debba attaccarli! Niente in contrario! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!